Qual è la connessione tra ansia e bocca secca? La relazione tra ansia e bocca secca è una questione complessa che coinvolge molti fattori. A volte, il corpo risponde allo stress producendo determinate sostanze chimiche in grado di regolare il flusso di saliva. Altre volte, i comportamenti associati all'ansia, come la respirazione pesante della bocca durante gli attacchi di panico, asciugano la bocca. In alternativa, i trattamenti per l'ansia possono nuovamente influenzare i prodotti chimici che regolano la saliva e creare secchezza delle fauci. Una cosa sotto costante studio è il modo in cui lo stress agisce sull'eurotrasmettitore acetilcolina, ACH, e l'enzima prodotto per scomporlo, chiamato acetilcolinesterasi, ACHE. ACH, in parte, aiuta a regolare la saliva. Quando una persona è sotto stress, la quantità di ACHE può essere più alta del normale e ridurre ACHE. Questa è una connessione diretta tra ansia e bocca secca. Se l'ansia crea ACHE, è probabile che la bocca sia più secca. Un'altra connessione causale è il modo in cui le persone possono respirare se sono profondamente ansiosi. Molte persone stressate respirano più rapidamente attraverso la bocca, e alcune persone con attacchi di panico fanno una quantità significativa di respirazione rapida della bocca durante l'iperventilazione. Una bocca aperta attraverso la quale l'aria scorre costantemente è probabile che sia abbastanza secca, il che può esacerbare un problema già presente a causa di alti livelli di ACHE. Le persone sviluppano anche meccanismi per affrontare lo stress che possono seccare la bocca. Cose come fumare o bere creano condizioni più secche. A seconda della frequenza con cui questi comportamenti sono coinvolti, possono peggiorare non solo la secchezza della bocca, ma anche i sintomi dell'ansia. Ironie della sorte, i mezzi medici per curare l'ansia fanno poco per alleviare la secchezza delle fauci. La maggior parte dei farmaci usati per calmare l'ansia causano secchezza delle fauci agendo sull'acetilcolina e riducendone il contenuto. Questo è vero per le benzodiazepine come diazepam, oxazepam, alprazolameclonazepam e alcuni degli inibitori della ricaptazione della serotonina, SSRI, usati per trattare l'ansia. Si applica anche agli antipsicotici atipici che vengono occasionalmente usati nel disturbo di panico grave, nel disturbo ossessivo compulsivo, nella sindrome da stress post-traumatico e nel disturbo d'ansia generalizzato. Ci sono alcuni farmaci che possono essere prescritti per aiutare a inumidire la bocca, e questi possono essere utili. Le persone possono anche aiutare ad alleviare alcuni sintomi della bocca secca bevendo un sacco di liquidi ogni giorno ed evitando le bevande che contengono caffeina. Se l'ansia e la secchezza della bocca continuano ad essere un problema, è importante che la persona veda regolarmente un dentista. Senza un'adeguata saliva in bocca, la carie si verifica più facilmente.